La Polizia del Commissariato di Urbino, nel corso di servizi di accertamento del territorio effettuati nel Comune di Urbania, ha effettuato un controllo ad un'autovettura condotta da un 65enne del posto. Sottoposto il conducente a un controllo del tasso alcolemico, è risultato essere superiore al limite consentito ed è stato così denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza e con contestuale sospensione della patente di guida. Inoltre, durante i controlli è risultato che l'assicurazione dell'autovettura era scaduta da quasi un anno e anche senza regolare revisione. Gli agenti quindi hanno sequestrato il mezzo e sanzionato l'autista con il ritiro della carta di circolazione. La Polizia comunica inoltre che i controlli per accertare l'identità delle persone che circolano sulle strade del territorio e la regolarità delle auto su cui viaggiano proseguiranno nei prossimi mesi estivi.